Il giorno con tre appuntamenti fissi. Gli orari degli altri appuntamenti sono consultabili sulla guida ai programmi Telepiù. Sylvester Stallone, quattro film all'insegna dell'azione. Rambo. Rambo 2, la vendetta. Rambo 3, la trilogia più spettacolare per vivere l'emozione dell'avventura. Cliffhanger. Allora che aspetti? Sono qui! In anteprima televisiva, un altro successo fiammato Slime. Sylvester Stallone, quattro film per entrare nell'azione. Questo mese su Telepiù. Soprattutto vi divertirà tutti i film che saranno portati a te su Telepiù. Domani sera alle 21, una spy story diretta da Robert Young, l'ostaggio, con Sam Neill, l'interprete di Jurassic Park. A seguire, Posse, la leggenda di Jesse Lee, il primo western All Black diretto da Mario Van Peebles. Insensi. Insensi. Pour homme de Givenchy. Telepiù consiglia la visione di questo film ai maggiori di dieci anni e vi ricorda che è possibile seguirlo anche in lingua originale con sottotitoli alle pagine 777-778 di Televideo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.